Prima vennero a prendere gli zengheri e fui contento perché rubacchiavano. Poi vennero a prendere gli ebrei e stetti zitto e mi stavano antipatici. Poi vennero a prendere gli omosessuali e mi fu sollevato perché mi davano fastidio. Poi vennero a prendere i comunisti e io non dissi niente perché io mica sono comunista. Un giorno vennero a prendere me e a quel punto ormai non c'era più nessuno che potesse dire qualcosa. Grazie. 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 Grazie.